Buonasera a tutti gli amici di Udinews TV e bentrovati all'appuntamento del martedì con Udinews on the beach. Dopo avervi raccontato Lignano, Grado e anche Sistiana, la rivera di Barcola, oggi con le nostre telecamere siamo stati e andremo in diretta a Marano Lagunare. Vi racconteremo le bellezze di questa località che in questi giorni è impegnata per un appuntamento molto molto importante. Ne parleremo assieme al nostro ospite in studio. Un saluto e un benvenuto a Graziano Pizzimenti, buonasera Assessore regionale alle infrastrutture e al territorio. Ma Sindaco, possiamo dire con la S maiuscola di Marano Lagunare, è stato primo cittadino dal 1995 al 2005, poi 4 anni, 5 anni come vice. Ma lei è maranese doc, possiamo raccontare un po' meglio le origini? Vabbè, mia mamma è maranese, maranese doc, mio papà era siciliano, quindi mio papà ha trovato mia mamma a Marano, sono sposati, quindi è rimasto lì. Io sono maranese, ho vissuto sempre a Marano, dall'asilo fino alle medie, poi superiore a Udine, all'Università Trieste. Però è innamorato di Marano, prima vedeva le immagini che ci arrivano dalle nostre telecamere in diretta da Marano e diceva guarda che bello il mare, il canale con le luci. A Marano c'è per noi il nostro inviato Alessandro Pomare, buonasera Ale, ti vediamo in compagnia, in compagnia del Sindaco. Buonasera a tutti e due. Buonasera a tutti i telesportatori di Udine News TV. Esattamente, siamo qui con il primo cittadino, il nostro dottor Mauro Popeso. È un piacere, è un grandissimo onore essere qui per questa sesta puntata di Udine News on the beach. E naturalmente siamo qui, caro sindaco, intanto la ringraziamo per l'ospitalità. Grazie mille a voi e grazie ai telespettatori e agli ospiti in studio ovviamente. Benvenuti a Marano, a Udine News Channel. Naturalmente un flash veloce, ogni tre anni qui a Marano succede qualcosa di grande. Di molto importante, la triennale appunto cade 2019 come ogni tre anni, un evento importantissimo che cala la storia veramente indietro nel passato. È un onore per noi riproporla ogni tre anni, questo voto che è stato fatto alla Beata Vergine della Salute. È un nostro compito portare avanti questa tradizione e anche quest'anno lo faremo. Se venezia hanno la Fussi, Marano salisce Venezia. Quindi amici di Udine News TV mettetevi comodi comodi perché oggi vi racconteremo Marano Lagunare. E effettivamente si respira un po' di aria di Venezia stando seduti sui tavolini di Marano, tra le calli di Marano. Anche a Marano le viuzze si chiamano calli, giusto? Sì, il centro storico è tipicamente Veneto, cioè la strada principale poi un insieme di calli, calette e piazzette che sono la testimonianza dei 400 anni passati sotto la serenissima. Quindi Marano è un enclave Veneta anche di parlata, tant'è che l'entrata del paese, quando ero sindaco, ho fatto mettere una targhetta in cui c'è scritto comunità di parlata Veneta, che è l'unica nel Friuli. Ma è simile un po' all'Udinese oppure sono due cose diverse? Perché anche l'Udinese ha un'origine un po' Veneta, come dialetto di parlata. Sì, sono molto diversi in effetti, anche se magari il ceppo è lo stesso, però sono completamente diversi. E allora, la nostra trasmissione si chiama On the Beach, c'è una spiaggia anche a Marano Lagunare, ed è la spiaggia delle Conchiglie. Ed è lì che è andata questa mattina la nostra Luciana Idelfonso, andiamo a vederci il servizio. Via Mare da Marano è possibile raggiungere anche l'isola di Sant'Andrea, dai più conosciuta come l'isola delle Conchiglie. Allora, perché questo nome? L'isola delle Conchiglie è un po' un nome di fantasia creato negli anni per attirare un po' i turisti, ma appunto, come hai detto tu, questa è l'isola di Sant'Andrea, che fa parte del cordone litoraneo che divide la laguna dal mare. Queste isole sono famose per le loro spiagge, anche noi di Marano veniamo sempre qui all'isola di Sant'Andrea, all'isola di Martignano, che è qui di fronte, ed è il posto più rilassante, perché non si ha il grande turismo, la grande affluenza come c'è a Lignano. E perciò noi portiamo i turisti a conoscere anche questi posti della nostra laguna. E in effetti qui sull'isola le Conchiglie ci sono per davvero, non è soltanto una trovata, diciamo, pubblicitaria o di marketing. Questo è dovuto un po' alle correnti, alle maree? Sì, alle maree che portano un po' le Conchiglie, portano anche i tronchi, tutto quello che arriva un po' dal mare e lo deposita qua sulle isole, che va a formare la battigia con tutte queste Conchiglie bellissime del mare Adriatico. Un'attrattiva soprattutto per i bambini che munite di secchiello, di sacchettini, in cui cercano di raccogliere il numero più alto possibile di Conchiglie in compagnia dei genitori e dei parenti sull'isola. Però c'è anche un guardiano, possiamo chiamarlo così? Sì, c'è un guardiano, un manutentore che comunque tiene un po' pulito, puliti i sentieri, taglia l'erba e rende più accessibile a tutti quanti l'arrivo all'isola. È il guardiano che vede anche c'è un'azienda agricola in fondo, dalla parte vicino a Portobuso e lui mantiene un po' pulita questa zona. E allora una bella gita, una piccola trasferta, perché da Marano quanto sarà in barca circa? Circa 40 minuti più o meno, è molto vicino, è raggiungibile con la barca. Una piccola gita, quindi 40 minuti dicevamo, per raggiungere questo piccolo angolo di paradiso quasi incontaminato. un'altra offerta proprio che si può fare sia partendo da Marano, ma anche da Lignano e che permette di vivere a contatto con la natura e di trascorrere qualche ora in questa bellezza, in questo paradiso della nostra regione. Belle immagini quelle che abbiamo visto, Assessore, ci riportano un po' un'atmosfera estiva. Ci va anche lei? No, no, sono stato da piccolo, da grande, da sempre, perché è un posto straordinario dal punto di vista sia naturalistico ma anche proprio per fare il bagno, quindi molto bene. Sicuramente una bella gita da fare nella laguna di Marano. Intanto il nostro Poma si è costruito una bella squadra di partecipanti a questa nostra trasmissione. Alessandro, ritorniamo da te e così facciamo parlare anche i tuoi ospiti. Innanzitutto dici dove ci trovi, dove ti trovi esattamente, in quale punto di Marano? In quale punto di Marano? Allora esattamente Angela, qui c'è una squadra veramente pazzesca, parte della squadra dell'amministrazione comunale che adesso ci presenterà il sindaco. Certo, allora sono qui con me questa sera, vi presento l'assessore alla cultura Andrea Codarin, l'assessore al turismo Manuela Popesso e il consigliere comunale Ambra Dal Forno qui dietro a me e abbiamo anche con grande onore il vicepresidente della cooperativa Pescatori San Vito, Claudio Morato. Ringrazio tutti appunto di essere qua con me questa sera. Saludiamo anche gran parte dell'amministrazione comunale che ci sta guardando da casa grazie allo streaming, salutiamo anche tanti amici che dal Sud America ci stanno mandando tantissimi messaggi perché Odinus TV arriva veramente ovunque. Noi comunque siamo in piazza Vittorio Emanuele, qui alle nostre spalle c'è una torre, la torre millenaria che a causa del terremoto della 76 aveva perso praticamente la parte superiore che poi è stata ricostruita. Vuoi dirmi qualcosa su questa torre? Esattamente, è stata appunto ricostruita, è un po' il simbolo di Marano, il primo simbolo che si vede anche a rientro dalla laguna, i pescatori vedono quando rientrano dal mare, un simbolo per noi e un simbolo anche che ci contraddistingue fuori da queste mura. Qui proprio alla nostra sinistra poi c'è il Palazzo dei Proveditori, un altro grande palazzo storico? Sì esattamente, Palazzo dei Proveditori, quindi un palazzo di governo all'epoca della Serenissima. Recentemente negli scorsi anni è stato acquisito dal comune di Marano Lagunare e sono appunto in atto tutta una serie di valutazioni anche archeologiche che poi ci porteranno alla progettazione finale per la ristrutturazione del locale stesso. Io so che di eventi qui a Marano ne fate veramente tanti e tra poco parleremo anche con l'assessore alla cultura Andrea Codarina di tutti questi eventi, però lei a quale evento rimane più legato? Beh, la triennale è qualcosa che ce l'hai dentro, da Maranese ce l'hai dentro, l'attendi un po' come i bambini attendono Natale, quindi è qualcosa veramente che ti senti dentro da Maranese. Infatti abbiamo visto tutta la comunità che sta preparando questa festa incredibile che si svolge ogni tre anni, il 15 di agosto. Allora, caro assessore, intanto buonasera. Buonasera a tutti. Sappiamo che un tifosissimo dell'Udinese... Abbonato dal 79, vero bambino. Ecco, io faccio anche una piccola parentesi, si ricordi che giovedì 8 agosto saremo allo stadio per presentare la squadra e la prima maglia, eh? Certamente, cercheremo di esserci compatibilmente con gli impegni. E adesso naturalmente parliamo di questa fantastica cittadina, questa piccola Venezia. Sì, diciamo che Marano è legata fortemente un po' alle sue tradizioni religiose. Ci sono proprio certi eventi religiosi che coinvolgono tutta la popolazione, fra cui le due grandi processioni, quella di Sanvio, di Giugno e quella della triannale che avviene ogni tre anni il 15 agosto. E Marano un po' si riconosce in queste tradizioni ed è proprio la forza dirompente di queste tradizioni ultraseculare che coinvolge tutti i maranesi. E tu lo capisci proprio anche dagli sguardi, dagli sguardi emozionati, non solo delle persone che abitualmente vanno in chiesa, ma anche delle persone che sono lontane dalla chiesa. Proprio perché gli eventi religiosi, questi due grandi eventi, riescono a spalancare le porte della chiesa e ad arrivare un po' in tutte le calli, in tutte le piazze. Ed è per questo che è un compito dell'amministrazione comunale quello di preservare e di continuare queste nostre tradizioni. Avete fatto diversi eventi anche musicali molto molto belli. Sì, diciamo che Marano, pur essendo una piccola realtà, però si sta sviluppando anche dal lato turistico e quindi attira anche molti altri eventi culturali. Quest'estate abbiamo avuto ancora una volta Borghi Swing, che è un'esperienza bella perché riesce a portare la musica un po' in tutte le nostre piazze. E questo abbiamo visto che porta non solo ovviamente i maranesi, quindi le persone autoctone del posto, ma cattura l'attenzione un po' di persone che arrivano da tutta la regione. Ecco, e Carangela, tra poco parleremo anche con l'assessore al turismo, Manuela Popesso. Allora intanto vi do la palla nuovamente, quindi a voi studio e tra poco continuiamo a raccontare questa fantastica località di Marano Lagunare. Noi prendiamo questa palla, Poma, prendiamo questo assist per ritornare, assessore, sull'argomento che ha introdotto il sindaco e anche il Poma, ovvero questa festa che anima in questi giorni di agosto Marano Lagunare. Questa processione che si svolge ogni tre anni e che ha una radice storica, c'è un fatto storico che giustifica, spiega questa tradizione. No, è chiaro che c'è a Monte un fatto storico che è quello della devozione verso la Madonna, la Maria della Salute, è una devozione appunto che da decenni, decenni di anni va avanti, si viene portata avanti da tutta la popolazione, viene fatta anche ogni tre anni perché è molto complessa nell'organizzare, nel partecipare, nel prepararla. pensi che di solito l'amministrazione comunale comincia a fare le prime riunioni a gennaio per fare questa processione perché è un'organizzazione molto complessa e complicata. È una processione, come diceva giustamente l'assessore, molto sentita, molto partecipata, non esiste un maranese che il giorno del 15 della processione stia a casa, ma viene fuori per vedere la processione, per vedere la Madonna, per fare un saluto alla Madonna, magari anche una preghiera. Quindi è una processione che va al di là di ogni aspettativa e che bisogna solo provarla per capire cosa significa per la comunità di Marano. Infatti molte sono le persone che vengono da fuori perché si rendono conto che c'è questa grande simbiosi tra la parte religiosa e la parte, diciamo così, anche ludica, molto forte, però quella religiosa dà un effetto all'interno delle persone molto molto grande. Sfogliando un po' i libri sulla storia di Marano, meglio le pagine internet, dobbiamo essere onesti, abbiamo scoperto che appunto questa processione legata a un voto che è stato fatto in occasione dell'epidemia del 1600, l'epidemia raccontata anche da Manzoni, che aveva davvero decimato la popolazione di Marano, erano rimasti in vita 17 maranesi, così abbiamo sentito. Questo è vero, c'è di tutto su quello che è successo in quel periodo lì, ci sono canzoni, ci sono storie, ci sono tradizioni che vengono raccontate, tramandate dalle persone poi di Marano, però in effetti era successo così, tant'è che sono dovute andare poi a grado a cercare le mogli, le mogli, perché non avevano neanche la possibilità di procreare, quindi è una cosa che insomma assolutamente, e da quella volta lì chiaramente poi sempre meglio, sempre più, si è fatto anche questa festa in onore della Beata Verde. Ma cosa succede esattamente il 15 di agosto? Allora, da punto di vista religioso, al di là della classica sagra del pesce che si protai per molti giorni, ma il clou che è appunto il 15, da punto di vista religioso la Madonna che viene prima, anzi il primo di agosto, comincia già il primo di agosto per la demozione della Madonna, ci sono due chiese a Marano, una che diciamo ospita la Beata Vergine da sempre tutti gli anni, tutto l'anno, tutti gli anni, fino al terzo anno appunto, in cui poi il primo agosto viene trasferita, trasportata nella chiesa più principale, quella più grande. Dopodiché dal primo di agosto fino al 15 viene venerata, vengono fatte tutte le messe, le varie funzioni religiose, dopo il 15 alle 5 e mezza di pomeriggio, sempre tramite una processione, viene imbarcata e si allontana la barca dal molo principale, va in mezzo alla laguna, si disperde in laguna fino alle 9 e mezza di sera e ritorna poi quindi di notte con una stella luminosa che fa la coreografia sopra la barca e con i fuochi di artificio, quindi c'è un effetto scenico molto forte, ma anche molto, perché poi vengono recitate anche delle preghiere durante questo arrivo della Madonna, quindi c'è un fatto molto forte. Molto coinvolgente. Sindaco, torniamo alla nostra truppa esterna, è tutto pronto per i fuochi d'artificio? Beh sì, diciamo di sì, ecco, ci siamo impegnati anche quest'anno, come ogni tre anni in questo spettacolo che è molto importante per la comunità e per questa festa, siamo pronti. Anche perché con Manuela Popesso volevo parlare un pochettino di questa piazza, anche perché prima io e Tecchio siamo stati attratti dai bambini che giocavano ad 1, 2, 3 stella. Sì, buonasera a tutti innanzitutto, ci troviamo qui nell'incantevole piazza Artico, già addobbata per la festa triennale e quindi... Quindi siamo pronti, ma come possiamo raggiungere Marano, dove dobbiamo parcheggiare la macchina durante questa manifestazione e insomma ci dia lei qualche dritta. Allora, tutte le strade portano a Marano e c'è un'unica strada che porta a Marano. I parcheggi saranno ben evidenziati, ben segnalati, quindi chiediamo di seguire proprio le indicazioni e poi per raggiungere il centro storico tre minuti a piedi ci si arriva. Il gioco è fatto, ma perché venire a Marano e quando venire a Marano? La risposta è scontata. A Marano bisogna venire sempre, ovviamente, tutto l'anno per gustare il buon pesce nei ristoranti, bere qualche aperitivo e soprattutto anche visitare le riserve. Non dimentichiamo le riserve naturali, che sono appunto un grande vantaggio per quanto riguarda il turismo. Una bella risorsa, giustamente, Sindaco? Assolutamente sì. Marano ha due riserve naturali e una terza di recentissima costituzione. due riserve fruibili, una appunto a piedi dal centro del paese e una invece con delle bellissime gite guidate in barca. Quindi venite a Marano a vedere le bellezze del nostro territorio, del nostro centro storico. Ripasso la palla sempre all'assessore perché Marano si può raggiungere, sì, sull'unica strada, ma anche via mare naturalmente. Via mare abbiamo il traghetto messo a disposizione tramite la SAF, con un servizio anche di bus navetta e agli orari prestabiliti e quindi raggiungibile proprio la spola tra Marano e Lignano. Da poco parleremo anche con la vicepresidente della cooperativa dei pescatori, ma lei cosa piace mangiare a Marano? Ci suggerisca qualcosa? Il pesce, in generale. Qual è un piatto tipico? Il piatto tipico è il bisatto in speo. Ah, bene, questa anguilla allo spiedo praticamente. Esatto, esatto. Cottura lenta. Sì, cottura lenta, fatta alle bracci, diciamo i maranese bronze. E il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Bene. Con un po' di polenta. Con un po' di polenta, va bene. Vediamo, Angela, tu come preferisci mangiare il bisatto qui di Marano? Ma forse la griglia è la cosa migliore, forse quella che piace di più anche a me perché così lo sgrassa un po', vero? Anche in umido? No, anche allo spiedo, come diceva l'assessore, viene cotto lentamente a fianco del fuoco per ore e ore, gira ovviamente questa anguilla che viene appunto messa allo spiedo in un legno particolare di alloro con un foglio di alloro all'interno, quindi un lavoro molto lungo ma il gusto è unico, assolutamente. E chissà, Alessandro, se magari dopo riesci a mostrarci come si prepara anche questa anguilla, questo bisatto. Vediamo se nel corso della nostra trasmissione riusciremo a mostrare anche qualcosa. Nel corso del tuo intervento precedente hai toccato tanti temi, Alessandro, il collegamento via mare con Lignano, i casoni, le riserve della laguna, questa mattina siamo andati a fare un salto anche noi nella riserva. Ti vedo in compagnia del vicepresidente, mi sembra, della cooperativa Pescatori. Ti chiedo solo di aspettare un attimino, così parliamo della pesca, un altro elemento importantissimo per Marano Lagunare. Tra un attimo adesso direi di andare a vedere proprio il servizio che ha realizzato questa mattina, la nostra Luciana Idelfonso che è andata a farsi un giro sul battello che collega Marano e Lignano. Una bella gita. Vediamo il servizio. Navigazione da Marano Lagunare fino a Lignano, in un battello che trasporta persone ma anche biciclette, un vero e proprio successo. Quali i numeri? Sì, un servizio collaudato che parte dai primi anni 2000, otto corse al giorno durante la settimana, dieci il sabato e la domenica e arriva all'incirca sulle 25.000 persone durante tutta l'estate. Quali i costi? Il biglietto dell'adulto costa 3,50 euro a tratta, 85 centesimi le biciclette. Una grande convenienza con l'abbonamento di 50 corse dove il prezzo a tratta riesce a costare un euro e 20 circa e dura poi anche negli anni, quindi un bel guadagno nominativo. In bicicletta qui a Marano perché si viene a fare questa passeggiata? Per fare un po' di allenamento ormai alla mia età bisogna tenersi un po' in movimento. Vedevo che curiosava le informazioni sul collegamento per Lignano, ci penserebbe ad andare fino in barca a Marano o magari poi girare l'imbice e poi rientrare? Certamente, ci ho già pensato e ci andrò. Quando? Prossimamente Un servizio di linea ha funzione, ha servizio proprio dei maranesi ma anche di tanti turisti. Da dove vengono principalmente i vostri clienti? È un servizio che è stato pensato per alleggerire il traffico su strada e quindi raccoglie una clientela proveniente da tutta la bassa friulana e non solo, che vengono appunto a Lignano lasciando la macchina a Marano poi con la motonave. Un altro tipo di clientela è quella che viene a scoprire Marano e magari a mangiare buon pesce da Lignano e quindi là abbiamo clienti dall'Austria, dalla Germania, dall'Ungheria, dall'Olanda, ecco soprattutto magari gli appassionati di bicicletta che vengono in vacanza sulle due ruote. Il tutto in una mezz'oretta diciamo così di traversata in barche attrezzate anche per i disabili? Sì, ecco la barca è nuova, il secondo anno che è operativa è stata fatta appositamente per navigare in laguna quindi col fondo quasi piatto ma soprattutto col ponte di coperta accessibile a tutti e abbiamo ricevuto dei bei apprezzamenti dalle persone diversamente abili per la comodità ecco della della motonave con la passerella scivolo e anche il bagno attrezzato. Quali le prossime sfide? La barca lavora tutto l'anno, ha una cucina attrezzata quindi già dallo scorso anno abbiamo promosso iniziative anche in autunno e inverno, facciamo feste, serali, cene aziendali, compleanni, feste a tema e quindi basta un po' di fantasia e già da Geremia è sempre una garanzia ecco. Facendo anche la rima, senti qua c'è anche la possibilità di andare alla scoperta di uno dei luoghi più belli della zona che è la riserva. Certo la riserva naturale Focci dello Stella è di un incanto unico, è proprio lo zio 50 anni fa quest'anno abbiamo l'anniversario 1969-2019 ricorre il cinquantesimo, è stato pioniere e ha avuto una visione lungimirante ecco iniziando con un peschereccio che adibiva ad uso turistico solo nei mesi estivi e poi proprio grazie all'istituzione prima dell'OSI avifaunistica divenuta poi riserva naturale ha iniziato a lavorare tutto l'anno anche grazie alle scuole, alle scolaresche. Bene noi vi aspettiamo sempre con il sorriso per qualsiasi avvenimento, occasione, anniversario, festa le porte in barca sono sempre aperte a tutti. È giusto, porte sempre aperte in barca, tra l'altro un'imbarcazione, il sindaco ci diceva che è nuovissima ed è stata progettata proprio dallo stesso Ventilini. Sì, sì, proprio quell'imbarcazione che si vedeva appunto dall'immagine avrà un anno, un anno e mezzo di vita è stata progettata dal signore che è stato intervistato, dal ragazzo che è stato intervistato perché lui è ingegnere navale, quindi ha fatto, diciamo, una barca fatta in casa. È sicuramente una bella soddisfazione anche questa, come quella di aver sposato il vicepresidente della cooperativa. Alessandro, torniamo da te con questo piccolo gossip. Il vicepresidente della cooperativa è stato la prima persona che l'assessore Pizzimenti da sindaco ha sposato, è vero? Questo se lo ricorda anche il nostro ospite? Se lo ricorda? Sì, me lo ricordo benissimo. Se lo ricorda benissimo. È stata una bellissima cerimonia, ero più emozionato io che il sindaco all'epoca. Siamo qui appunto con il vicepresidente Claudio Morato, adesso gli avete fatto ricordare un qualcosa di veramente incredibile. Però, carangela, ti dobbiamo dare una brutta notizia, perché purtroppo il piatto tipico oggi non te lo possiamo far vedere. Lo spiega lei, caro vicepresidente? Purtroppo l'anguilla lo spiedo da noi, la facciamo a ottobre, novembre, dicembre, nei mesi un po' più freschi, perché è più facile pescarla. In questo periodo è difficile pescarla e quindi non si fa. Torneremo volentieri, eh? Certo, certo, certo. Noi vi accoglieremo veramente volentieri. Ma qual è l'ora migliore per andare a pesca? Sì, a secondo il tipo di pesca che uno decide di fare, ci sono vari orari. Di solito si pesca più facilmente di notte il pesce, perché lo si prende più facilmente, ecco. Insomma, un po' più addormentato magari? Sì, vede meno probabilmente. Ma il mare ha scelto lei o lei ha scelto il mare? Ma... un po' tutti e due, ecco. È un lavoro che l'ho fatto perché lo faceva mio padre, lo facevano i miei parenti, è una tradizione di famiglia. L'ho fatto volentieri, ecco. Sono arrivato quasi alla fine, nel senso che mi mancano pochi anni per andare in pensione e sono contento, ecco, di aver fatto questa vita. Quindi un lavoro, una passione che si tramanda di generazione in generazione, ma i giovani si avvicinano a questo mondo? Ma ci sono dei giovani che iniziano a fare questa attività, le varie attività della pesca, perché ci sono varie attività nella pesca. Sta a noi aiutarli a proseguire perché è giusto che si prosegua con questo mestiere antico, diciamo. Qual è un piatto tipico che mangia un pescatore di Marano? No, ma noi facciamo il boretto alla maranese, che è un pesce inumido in bianco, con soffritto di cipolla invece che di aglio. E la giocate con quelli di grado così, eh? Sì, sì, loro lo fanno con l'aglio, secondo me lo bruciano troppo. Ma loro lo fanno così. Poi la pasta con le vongole, naturalmente, è un piatto. La zuppa, la zuppa di pesce, che è un passato di pesce con il pesce scarto, con il pomodoro, le verdure. È un piatto che si può degustare anche nei nostri ristoranti. Anche perché nei vostri ristoranti c'è l'esaltazione dei piatti poveri, quelli della tradizione. Sì, 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 le sardelle in saor. Sì, perché il pesce, secondo me, è così. Se è fatto con pochi ingredienti, rende di più il suo sapore. Anche perché il pesce, quando è buono, è buono. Quindi non servono tanti condimenti. Allora, Carangela, a voi studio intanto. Dopo vi racconteremo dove siamo e cosa faremo tra poco. Anche perché siamo questa fantastica chiesa dove c'è la Beata Vergine della Salute. Dove partirà tutta la festa, praticamente, del 15 agosto. A voi studio. Sì, tieni lì, Morato, Poma, perché poi cercheremo di capire anche qual è il pesce che si pesca in questo periodo dell'anno. Visto che non è il momento dell'anguilla, vedremo, cercheremo di capire cosa finisce nelle reti dei pescatori maranesi. Adesso ci fermiamo, Sessore, per un attimo di pubblicità. Quindi diamo la linea alla regia e poi saremo subito di nuovo in diretta con voi e con Marano Lagunara. Tra poco. Eccoci di nuovo pronti per proseguire questo nostro approfondimento di News on the Beach dedicato questa settimana a Marano Lagunare. Siamo assieme all'Assessore regionale alle infrastrutture e al territorio, Graziano Pizzimenti, per tantissimi anni sindaco di Marano Lagunare. Siamo anche in diretta con il nostro inviato a Marano, Alessandro Pomare, assieme al sindaco, alla giunta, ai pescatori. Avevamo in sospeso una domanda a Morato, al vicepresidente della cooperativa pescatori di Marano, sul pesce che finisce in queste settimane, in questi giorni, nelle reti dei pescatori maranesi. Non c'è l'anguilla. Cosa troviamo? Cosa pescate? Ma in questo periodo si pescano cefali, si pescano canocce, si pescano palombi, si pescano i molluschi, i vongole veraci, si pescano fasolari. L'importante è saper pescare però, eh? Sì, l'importante è saper pescare, ma sì, si pesca ancora. C'è in questo periodo un fermo pesca dello strascico, quindi non arriva un certo tipo di pesce, ma si trova molto pesce fresco anche in questo periodo. Qui poi Carangelo, l'appetito viene veramente ascoltando tutte queste tradizioni, questi piatti tipici, anche perché qui ci sono dei ristoratori che hanno vinto dei titoli per i piatti tipici, come diceva della Forno Ambra, la nostra consigliera comunale. Sì, Giorgio Dal Forno, ristoratore dei Tre Canai, ha vinto il primo premio per il boretto alla Maranese e di questo ne facciamo vanto, ne facciamo orgoglio. Perché venire a Marano? Faccio anche a lei questa domanda. Perché Marano è unica. Il Friuli è unico e per gente unica, Marano forse lo è ancora di più. Vorrei raccontarmi qualche aneddoto su questa fantastica cittadina? Ce ne sarebbero tanti da raccontare. Uno, uno, qui in diretta. Penso che c'è anche un certo Geremia che gira con il suo cagnolino, che quasi quasi chissà se lo troveremo questa sera. E non è suo il cane. Tra l'altro non è suo. Fai il dog sitter. Geremia è stato uno che è stato una persona molto lungimirante, ha trovato questo modo per non andare a pesca e ha fatto il traghettatore tra Marano e Lignano e poi si è inventato questa attività. È una persona molto conosciuta qui. Sì, molto. Noi lo salutiamo perché sicuramente se non è in giro adesso nel centro storico sarà a casa a guardarci. Beh sì, anche perché insomma a una certa età si va a dormire anche. Assolutamente non ancora. Siamo giovanissimi, siamo giovanissimi. Poi da quando mi sono messo a dieta mi sento veramente rinascere. Poi dieta, parlando di tutto questo buon cibo. Tra l'altro siamo qui, carangela, proprio nella chiesa che ola la Madonna Beata Vergine della Salute. Sì, questa è la chiesa parrocchiale di San Martino. Attualmente la Madonna della Salute è qui dentro proprio perché il 15 agosto da qui partirà alla volta del mare perché di solito trova posto nel suo santuario proprio a lei dedicato. E poi so che c'è anche una fantastica mostra da vedere qui a Marano. Sì, esatto. Allora dal 9 agosto fino al 15 settembre ci sarà la mostra La Memoria Ritrovata dove per la prima volta esporremo l'archivio storico maranese dal 1500 fino al tardo 1800. E il titolo direi che è emblematico perché un paese quando ritrova i propri atti ritrova la sua memoria. Bene, bene. Io torno qui un attimino dall'assessore al turismo, quindi Marano, voglio farle questa domanda. Ci sono più uomini o più donne che frequentano Marano? Beh, metà e metà diciamo, no? Si viene anche a prendere il sole qui, eh? Sì, si viene a prendere il sole. Abbiamo comunque una spiaggetta piccolina proprio alla fine del paese e quindi è piacevole. E ci si abbronza, anche se qui quello più abbronzato è sempre il vicepresidente qui, eh? Eh sì, perché andando a pescare ci si abbronza. Quindi si fa l'utile e il dilettevole. Allora, cara Angela, allora intanto a voi studio per far vedere qualche altro contributo. Noi naturalmente ci incamminiamo in questa fantastica via che si chiama? Via Sinodo. E comunque ritorneremo praticamente nel centro, vedremo tanti localini e tra poco vi racconteremo i piatti tipici, faremo un brindisi perché il brindisi è un rito qui per la nostra trasmissione. Quindi a voi studio. Certo, grazie ad Alessandro. Buon giretto nel centro di Marano che è tutta pedonale, eh? Sì, il centro storico è tutto pedonale. È stata una scelta fatta quando ero sindaco io. Abbiamo ristrutturato praticamente tutto il centro storico, mettendo a raso tutti i marciapiedi. E quindi è pedonabile per tutti, anche per chi ha difficoltà dei muratori. E quindi diciamo che è stata una scelta che poi ha ripagato nel tempo perché il turismo poi si è riversato su questo enclave veneta di grande tradizione. È un enclave veneta. Forse non molti sanno che Marano era una fortezza, così come Palmanova. E poi invece le mura furono abbattute nell'Ottocento, se non sbaglio, a causa di una pestilenza. Quindi fu deciso di abbattere le mura per consentire una maggiore aerazione della zona di Marano. È giusto? Sì, avevano dato causa appunto queste mure, questo ambiente chiuso che aveva creato questa pestilenza e quindi gravi difficoltà proprio delle persone, di malattie eccetera. Quindi il fu olivotto, che poi insomma era famoso, è rimasto famoso per altri motivi, anche comunque quello che poi ha fatto abbattere le mure. Qualcosa è rimasto? Perché se voi andate a vedere, girando un po' la zona dove sono già loro adesso, la ex fabbrica Maruzzella è costruita sulle mure antiche. Una parte della Maruzzella, del tonno Maruzzella che si produceva a Marano, è stata costruita alla fabbrica sopra le mure antiche. Quindi è una cosa straniera, ovviamente in questo periodo impossibile da realizzare dal punto di vista sovrintendenza eccetera, dei vincoli. Però si vede benissimo la parte storica delle mure con la parte nuova che è l'ex fabbrica del tonno. Prima l'abbiamo intravista nelle immagini che andavano in Ondera, nella nostra piccola finestra, il vecchio stabilimento della Maruzzella. Maruzzella è un stabilimento che è nato nel primo ottocento, poi nel novecento ha avuto il grande sviluppo. Purtroppo all'inizio degli anni del 2014 hanno la proprietà deciso di trasferire la produzione di nato silico. Eccolo qua, è questo giusto. Eccolo qua, è una parte, si vedono già sotto, si gira un po' l'angolo da quella parte e si vedono benissimo delle vecchie mure della fortezza. La chiusura di questo stabilimento ci testimonia un po' anche com'è cambiata a Marano negli ultimi anni. Quando ho fatto una scommessa, diciamo, amministrativa, diciamo pure politica, quello di cercare non di sostituire la pesca al turismo, ma di integrare il turismo alla pesca, perché era impossibile. Marano negli anni, ho cominciato io a fare il cinema nel 1995, ma anche quasi fino a qualche anno fa, erano circa 300 pescatori. Quindi trovare un'alternativa per 300 persone era praticamente impossibile. Quindi uno dice facciamo turismo, che più, che più, che più, però in realtà era praticamente impossibile. Quindi l'idea era quella di integrare alla pesca il turismo, quindi dare una possibilità di una variegata offerta a chi veniva a Marano. Infatti questo ha funzionato. La messa, diciamo appunto, del centro storico, il collegamento coliniano, la riserva, ci sono tutti gli argomenti che poi nel tempo hanno portato a essere Marano uno delle mete principali, specialmente per le gite giornaliere, quelle che vengono a fare la passeggiata, a mangiare qualche cosa e poi ritornano proprio a casa. E infatti oggi la nostra Luciana Idelfonso da giornalista turista è andata proprio a fare un giro nella laguna di Marano, ha realizzato questo bel servizio. Vediamocelo assieme. Se qualche dunne lascia, presto non l'aghe passa. Anche a sei va distante, un giorno e tornerà. E allora ci troviamo proprio in mezzo alla laguna insieme ad Adriano, che ci ha gentilmente ospitato quest'oggi a bordo della Saturno per venire a visitare i casoni. E proprio lui ci potrà raccontare l'importanza di queste strutture nate intorno al 1600. Vero Adriano? All'incirca questa la storia inizia qui nel 1600, la storia dei casoni. E così è una storia tramandata di padre in figlio. Abbiamo notizie che ci portano indietro di centinaia d'anni. E poi i nostri nonni, i nostri bisnonni. Di generazione in generazione si è tramandato questo patrimonio che è così particolare se l'abbiamo a Marano in regione. Già a grado hanno la muratura e già diversano. E quindi è un patrimonio della comunità maranese, ma io vorrei dire della nostra provincia di Udine, della nostra regione Friuli. Se vai in giro per l'Italia non si trovano di questi edifici. Quindi è un qualcosa di nazionale oltre. Vediamo la passione e l'amore che hai proprio negli occhi per queste luoghe. Luoghi importanti anche perché riserva naturale. Da quando questa zona è protetta? Dal 25 giugno del 1976 la regione si è accorto che in questa zona ci sono oltre 300 tipi diversi, specie diverse di uccelli che passano da quelli che vengono dal nord Europa nei mesi invernali a quelli che arrivano dall'Africa nella primavera e nel periodo estivo. E di là poco lo zio, il Geremia, che sempre ricordo volentieri e ricordo ai nostri ospiti, che ha capito e ha intuito l'importanza di questa zona e per questo sono nate poi queste anche mini corciere. Anche oggi abbiamo ospiti da tante parti, non solo d'Italia ma anche dall'estero, perché partiamo da Lignano in questo periodo estivo. e quindi abbiamo a bordo austriaci, tedeschi di Germania e tanti anche dei paesi dell'estero europeo. Oggi questo posto si è trasformato per i più piccoli anche in un'isola di pirati. Spieghiamo perché? Perché abbiamo deciso di venire proprio con te per questa offerta anche per i più piccoli alla scoperta di questi luoghi magici. Siccome la sete è sempre tanta e specialmente i bambini che sono sempre così alla ricerca di un qualcosa di diverso, abbiamo coniugato il fatto che è vero che navighiamo e arriviamo in un'isola, in un'isola selvaggia, un'isola che ci porta indietro nel tempo. Allora è successo che con i nostri figli, da bambini ne abbiamo tre, abbiamo detto quasi per scherzo che si potrebbe inventare questo viaggio che è la nave dei pirati. Prima ho fatto le prove con loro, con i loro amici, ho visto che ha funzionato. E perché no? Insomma, ecco, allora forniamo le bandane, allestiamo la barca con le bandiere, diamo loro le spade, le sciabole e magari più tardi, chissà, forse ci sarà anche una caccia al tesoro perché il fine dei pirati è che, come raccontavano sempre, da qualche parte è nascosto un tesoro, non vi dico altro. Questo è il servizio della nostra Luciana, torniamo però adesso velocemente in esterna perché la nostra squadra ha barato, ci aveva detto che ci aspettava per il brindisi, in realtà Alessandro abbiamo visto che avete già fatto il brindisi, avete già bevuto qualcosa. E allora a questo punto vi diciamo, aspettate lì, ancora un attimo, andiamo a vederci ancora qualche intervista raccolta sempre dalla nostra Luciana e del Fonso e poi torniamo da voi. Insieme a noi anche il pirata Morgan, allora cosa ne pensa di questa gita? È una gita bellissima, soprattutto al cacciare al tesoro mi è piaciuto tantissimo. Niente, è una bella cosa anche fare il pirata, mi piace, la farà più spesso, scherzo. È la prima volta che venite qui? Sì assolutamente, questa gita è la prima volta. E vi è piaciuta? Sì. Hai trovato il tesoro? Sì. E cosa c'era dentro? I calanelli. Buone? Sì. Da dove venite? Noi, beh, è complicato, viviamo a Roma, però io sono tedesco, sono di Monaco. Cosa ne pensi dei casoni, è una cosa unica? Assolutamente sì, è impressionante, non pensavo che esistesse ancora tipo così, non si fanno più in questo modo, è molto bello. Non è la prima volta che vengo e ritorno con gli amici di mia figlia, proprio perché è molto bella. La trova divertente anche per i più piccoli, con questa simulazione da pirati? Sì, 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 è bellissima, infatti vi abbiamo portato anche oggi un amichetto, mi sto scrivendo e mandando le foto alla mamma e al papà perché è veramente bella, poi anche con la musica, mi sembra suggestivo. È stata bellissima e ne vale la pena farla. Siete in ferie qui a Lignano da dove? Siamo qua in ferie, veniamo da Corsico vicino a Milano, abbiamo fatto quasi un mese, tra poco torniamo a casa. Un posto unico quello dei casoni e della laguna di Marano? Sì, è veramente un posto unico. La proposta per i più piccoli, si è divertita tua figlia vestita da pirata? Si è divertita tantissimo e per tutti i bambini è meglio se lo fanno, che si divertiranno anche loro. Cosa pensi a proposito di questo posto dove puoi trovare queste bellissime conchiglie? È un posto bellissimo soprattutto per la mia piccola bambina. Siamo stati qua sette anni fa quando lei era ancora nella pancia di mia moglie ed è stato bellissimo, un bel ricordo. Ha visto qualche altro posto qua in giro? No, no, ho visto solo questo. E queste le voci dei turisti che hanno effettuato questa escursione in laguna, un modo, assessore, anche per conoscere un po' le tradizioni dei pescatori. Sono paesaggi, sono scenari davvero unici quelli che si vedono in laguna. I casoni che abbiamo visto storicamente avevano tutt'altra che funzione, tant'è che erano il riparo dei pescatori. I pescatori andavano a remi a pescare negli anni che furono, si riparavano in questi casoni, si fermavano a mangiare e a dormire nei casoni. C'era uno che portava il pesce giornalmente a Marano, ma gli altri si fermavano fino al fine settimana per venire poi a casa, andare a messa. Quindi è una tradizione che è molto, molto radicata nel tempo. Sicuramente molto bella anche da raccontare ai più piccoli. E allora ritorniamo dalla nostra truppe esterna. Chiediamo subito alla nostra squadra, al nostro Po, ma se mi sono scritta la frase, te somiglia da essere a Venezia. Alessandro. Eh sì, se Venezia non la fussi, Maransari ha Venezia, no? Io me la sono segnata questa cosa naturalmente, no? Ed è stato un slogan che abbiamo utilizzato insieme al nostro sindaco. È vero, è vero. Questo è un po' uno slogan che ci viene riconosciuto, è che è proprio così, dai, diciamocelo. Assolutamente. Comunque, carangela, la colpa del brindisi iniziale è sempre di una persona. E' colui che sta tenendo la telecamera in questo momento, quindi devi ringraziare Francesco Tecchio. Io lo ringrazio comunque per tutta la disponibilità e per la pazienza che hai nei miei confronti. Qui abbiamo anche il gestore di questo fantastico locale che ci sta ospitando. Cosa succede qui a Marano? Cosa succede? È una realtà alla fine del comune di una piccola Venezia, Marano. Cioè, Marano non si sente... È una cosa fantastica. E questo posto qua è unico, unico, unico. È una piccola realtà ma che può dar tanto. E poi è una cosa molto bella che ho visto anche nei locali che non c'è nessuno con il cellulare in mano. Assolutamente no. Non serve il cellulare a Marano. Non serve. Ci si conosce tutti, ci si ritrova. Ci si conosce, esci senza cellulare e ti trovi sempre qualcuno. Alla fine dei conti, a bere uno spritzetto, adesso abbiamo introdotto dei cocktail, un American Bar, te mangi da Dio. Ma qual è il cocktail dell'estate? In questo momento qua a Marano va tanto lo Spritz Zen o il Mosco Mule. Lo Spritz Zen? Lo Spritz Zen. In cosa consiste? Lo Spritz Zen è una realtà. Come il Mosco Mule invece della vodka va il prosecco, la menta, il ginger beer, lo zenzero ed è il nuovo aperitivo maranese. Allora adesso devi convincere Angela che ci sta guardando in questo momento insieme a tutti i telespettatori di Dio di News TV a venire a bere uno Spritz Zen a Marano. Assolutamente, venite qua a Marano, non in un bar, in tutti i bar e in tutti i ristoranti, partendo dal primo all'ultimo a venire a bere lo Spritz Zen, soprattutto da venerdì prossimo che inizia la nostra triennale, ogni tre anni una festa favolosa e quindi c'è la Madonina che arriva dal mare a venire assolutamente a mangiare e beve a Marano. E' una cosa molto bella, caro sindaco, questa unione, poi si fa pubblicità, ogni locale fa pubblicità dall'altro, è una cosa molto bella. Ma questo è un po' quello che si ricerca anche qui a Marano, un po' l'unità di tutti che l'unità, come si dice, fa la forza, quindi cerchiamo in qualche modo di essere tutti uniti per proporre un'offerta aggregata per il pubblico che viene a Marano. Poi il rito del bere l'aperitivo a Marano il sabato, la domenica, il venerdì sera è veramente un rito, la gente viene a Marano anche solamente per farsi la passeggiata per il centro, a bersi il buon bicchiere di vino, è questo che un po' ci contraddistingue anche un po' come città marinara, per cui continuo con l'invito che faceva Alessandro venite, venite a Marano, venite a visitare le nostre bellezze e a degustare quello che Marano vi offre. Senti Garangela, intanto vi ripasso la parola anche perché sono le 21.53, tra poco ci sposteremo e andremo in un ristorante per vedere un piatto tipico e dopo ci saluteremo. Sì, adesso andiamo a Barcanetta e vedremo proprio la realtà del cibo locale. Intanto facciamo il cin cin. Cin cin, a voi studio. Cin cin veloce Alessandro perché il tempo passa velocemente, quindi correte perché se no non ce la facciamo a mostrare anche questa ricetta. Assessore, abbiamo sentito appunto della vivacità che c'è anche a Marano, tanti locali, ci diceva prima sabato e domenica c'è tanta gente. Il fatto che sia un'area pedonale, il centro storico rimesso a nuovo, accogliente, molti locali accoglienti che si possono sfruttare sia per il bere che per il mangiare, porta specialmente il sabato e la domenica, ma comunque anche durante la settimana, ma sabato e domenica un gran numero di visitatori e anche di avventori, cioè che vengono proprio a degustare l'endogastronomia del posto. Quindi grande effetto, grande movimento e poi in realtà a Marano per il pesce è unico, c'è poco la via. C'è forse il clima, sarà perché il pesce è fresco, sarà perché lo sanno far bene, si mangia molto volentieri. Sarà che molto spesso il piacere che dà una cosa mangiata viene associato anche al posto in cui la mangi, quindi il fatto di mangiare il pesce a Marano già di per sé dà una sensazione positiva, una bella emozione. Avete qualche stima sui turisti che arrivano durante l'anno a Marano? È difficile fare una stima perché sono quasi sempre turisti giornali. Noi abbiamo anche un albergo, nel territorio non, nel territorio ha un albergo, nel comune di Marano c'è un albergo, ma anche delle affittacamere, il bed and breakfast, si sta muovendo, quindi se ci sono stati costruiti il bed and breakfast vuol dire che c'è una forte domanda. Quindi su questo punto di vista c'è una crescita assolutamente. L'unico dato che possiamo avere con certezza, perché lì c'è il biglietto d'entrata, sono il numero di visitatori della riserva a Valle Canal Novo e lì girano più o meno tra scolaresche, utenti e turisti generici oltre 22-23 mila persone all'anno. Quindi per noi, che è una realtà relativamente piccola, tutto sommato è un grande risultato. Sono numeri sicuramente importanti, un settore quindi su cui investire anche per il futuro. Assolutamente sì, io ripeto, ci ho creduto su questo e ho avuto secondo me anche riscontro, perché poi sono state create delle darsene con dei posti barca di porto, oltre che quelli della pesca, quindi ci sono le barche da pesca e le barche da riporto. Quindi vuol dire se ci sono le barche da riporto, vuol dire che c'è una marina, vuol dire che c'è Porto Maran, che è una marina molto frequentata, anzi c'è una richiesta molto superiore a quelle che sono le possibilità di ormeggio attuali, quindi vuol dire che c'è una grande attesa su quelle che sono le offerte di Maran. Anche perché da lì a poco si arriva, in Laguna si arriva anche in mare aperto. Diciamo che uno che è una barca, il classico motoscafo, diciamo di 5-6 metri, quindi open space, quindi una barca relativamente veloce, si arriva a Lignano in meno di 10-12 minuti e di cui da lì si parte, si arriva al mare, che è ovviamente per specie. Quindi l'isola che abbiamo visto si arriva con la barchetta in 10-12 minuti. È sicuramente una bella alternativa al traffico dello stradone per Lignano. È chiaro che poi se si va con la barca di Adriano, del Saturno, diciamo così, la gita è più tranquilla, più comoda, poi viene raccontato un po' quelle che sono le bellezze sia così naturalistiche ma anche la storia di Marano per cui uno va via e ritorna ricco di conoscenze e di esperienza anche. Cioè il nostro inviato che sta preparando il tavolo con i piatti da raccontare e da mostrare, piccola parentesi, Assessore, come siamo con i dragaggi? Si arriva agilmente? No. In mare aperto? No, lo dico con tutta sincerità, si fa tanta fatica a dragare. Le norme sono talmente complesse e complicate che si fa fatica a trovare una soluzione specialmente continuativa nel tempo. si fanno degli interventi quando si riesce, non dico a spot ma quasi, però diciamo che l'obiettivo che si è posto dall'Aggiunta Federica, in particolare io fin quando avevo i dragaggi, insomma fino a una settimana fa, è quello di trovare una soluzione che sia, che dia la possibilità nel tempo di avere una possibilità di dragare continuativo ma non solo ogni anno qualcosina ma continuativo, cioè questo è l'obiettivo finale, fare un dragaggio costante sarebbe l'ideale per la pesca ma anche per il diporto, i canali per definizione hanno necessità di essere dragati perché la laguna è in continuo movimento, anche questo per definizione, cioè non è che la laguna è un corpo statico fermo, c'è movimento per le mareggiate, per il vento, per l'erosione, cioè per forza la laguna ha questo dinamismo e quindi su questo bisogna lavorarci sopra e bisogna impegnarci per tenere pulito quelle che io dico sempre che sono le strade della laguna. Eh certo, certo. La litoranea Veneta che porta da Trieste a Venezia, che passa ovviamente tra Marano e Grado, quindi Terno nella laguna, Grado ha lo stesso problema. Certo. E allora andiamo dalla nostra truppa esterna, andiamo dal Poma, cui stanno brillando gli occhi a vedere certi piatti, ti ricordo che sei a dieta Alessandro, a voi. Esattamente ma lo faccio sempre solo per voi, sono a dieta, lo giuro, ringraziamo gli amici della Barcanessa, ringraziamo lo chef Claudio per questi due piatti che ci ha preparato e c'è anche la sorpresa per te. Cara Angela, ci racconti i piatti caro chef? Sì, qui abbiamo un'inseratina di canoce, canoccette nostrane e un po' di granchio, curate, un'inseratina semplice con un po' d'olio a limone e qua invece abbiamo l'anguilla all'ospeo che è un piatto tipico maranese. Il bisatto l'abbiamo fatto alla fine? Il bisatto l'abbiamo fatto sì, con un po' di polentina e un po' di verdurina, ecco tutto qua. Noi la ringraziamo e naturalmente quando possiamo venirvi a trovare per mangiare qualche piatto tipico? Noi siamo sempre aperti, siamo chiusi il mercoledì. Quindi vi aspettiamo eh? Sì, vi aspettiamo. Ok, vi aspettiamo, anche a te Angela ti aspettiamo. Allora, cosa dire, una puntata incredibile, io ringrazio veramente tutta la regia, ringrazio te Angela, ringrazio Davide che è in vacanza, ringrazio la Luciana, ringrazio il Tecchio, insomma ringrazio veramente tutti, anche il buon Andrea che mi ha accompagnato nelle precedenti puntate. L'appuntamento sarà la prossima settimana e naturalmente ci ritroveremo il 14, quindi anticiperemo la nostra puntata di Udnews on the beach, quindi vi racconteremo un ferragosto, un ferragosto particolare, ci sposteremo a Lignano, intanto grazie ancora Angela, intanto ringrazio tutta l'amministrazione comunale di Marano per l'ospitalità. Grazie mille a voi per essere qua e grazie mille ai telespettatori. Ringrazio naturalmente il vicepresidente della cooperativa Pescatori, ringraziamo anche il presidente che ci sta guardando. Grazie, grazie, ringrazio tutti e il presidente Riccardo Milocco che mi ha fatto venire qua al posto suo. Ecco, anche voi potete fare un saluto a casa a tutte le persone che ci stanno guardando. Sì, grazie a tutti veramente. Grazie a tutti e rinnovo il mio invito a venire a Marano. Mi associo a lei, grazie e venite. Quindi, cara Angela, adesso mi brillano gli occhi ma ve lo giuro, se lo farò lo farò sempre solo per voi. A voi studio, arrivederci alla prossima puntata. Ciao e rimanite con noi. Ciao a tutti, ciao a tutta la nostra squadra esterna. Noi siamo in chiusura, abbiamo sentito anche l'orologio che batteva le 10, Assessore. È l'orologio della torre della piazza principale. che scandisce il tempo da diciamo un millennio, quindi da una vita. Io invito oltre a venire a Marano sempre e comunque perché come è stato detto questa sera è un'isola molto particolare ma io invito soprattutto per la festa che ci sarà dal 9 al 18, la festa della triennale, quindi dal 9 al 18 ci sarà la sagra ma non solo la sagra ma ci sarà anche tutto quello che riguarda la parte religiosa quindi un avvenimento è sicuramente molto molto bello da vivere costantemente in questi giorni. Una bella occasione anche per andare a Marano, anche per chi magari non c'è mai stato, sicuramente anche qualcuno della nostra regione non è mai stato a Marano. Grazie all'Assessore Pizzimenti per essere stato con noi, grazie anche alla regia di Alessandro Fiermonte e Giancarlo Celant. Noi ci fermiamo qui, ci salutiamo in musica. Alla prossima. Nel mondo è un cantonetto, esiste un paesetto, è il suo nome se ci ammarà e se lo sa di lontano, vivemo tanta gente, allegra e divertente, semplici pescauri, bravi di lavorare. Se qualche dimenticare, presto non è un cantono, è un cantonetto, è il suo nome è un cantonetto, è un cantonetto, è un cantonetto. Tutti ben te volemo e solo te la semmo, ma rande i nostri sogni della felicità. Grazie per la visione!